buongiorno buona gente questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di etv per la nostra vostra rassegna stampa 13 di febbraio con tanta voglia di festeggiare un carnevale meraviglioso ce lo dice l'amico claudio ecco qua la foto una delle foto che sono arrivate in questa giornata in tanti ci state scrivendo condividendo le bellezze delle marche mamma mia mi fate innamorare buongiorno dalla piazza di cerasa di san costanzo giriamo davvero la regione e grazie che mi mettete pure la didascalia anche se dialetto didascalia si dovrebbe dire didascalei no scherzo la didascalia della foto perché confesso che non tutte le zone delle marche le padroneggio e le conosco mio babbo sì mio babbo sì dalla piazza di cerasa di san costanzo e viva e viva un abbraccio guardate questo clima di carnevale perché si sente no lo scherzo è dietro le quinte partiamo con la nostra vostra rassegna stampa o ripartiamo a seconda che ci seguiate nella versione 6 45 9 30 oppure nella versione 13 30 nella versione 14 30 o ancora nella nuova modalità per usufruire di buongiorno tv nella versione buongiorno e buonasera che va in scena tra le 18 e le 19 buongiorno da como adoro le marche ci scrive l'amica maria croce rizzo grazie noi concordiamo noi marchigiani chiaramente concordiamo ma anche como lago di como io ho fatto degli eventi in alcune ville sul lago affacciate sul lago di como una favola una cosa incredibile non è un caso che sei con cittadina di george clunay o ha venduto quel villone clamoroso che c'è buon martedì di carnevale buon lavoro buongiorno e buon martedì grazie rosi rosi giuseppe buongiorno e buon martedì carla buongiorno a tutti grazie è certo che se l'amica di como che è stupenda quel ramo del lago di como dice che sono bellissime le marche lei che ci scrive da un luogo meraviglioso queste foto lo confermano ma bando alle ciance e ciancio alle bande cominciamo la nostra scarica di notizie dalle marche dai siti dai giornali partiamo con l'edizione online del corriere massacro l'ex sotto casa il senigalliese padovani viene condannato all'ergastolo si tratta del primo grado e quindi come ho già detto e ho ricevuto anche già delle critiche ma così funziona e la comunicazione e la giustizia c'è ancora la presunzione perché di innocenza perché poi ci sarà sicuramente l'appello intanto in primo grado l'ergastolo quel giorno non ero io la sorella di lei colta da malore non so se ricorderete la vicenda venne massacrata a martellate l'alluvione nelle marche è come è come se ve ne ricorderete 15 settembre 2022 una data indelebile fiumi non curati ponti fatti male che fecero da tappo e favorirono l'esondazione gli alberi lasciati dentro gli alvei dei fiumi perché chi ha mancato in che cosa ha mancato le responsabilità di chi sono oltre che di madre natura ma non possiamo dare la colpa solo a madre natura non solo l'allarme partito in ritardo le mancate comunicazioni il sistema d'allerta sulle piene dei fiumi inadeguato e i piani comunali di protezione civile non aggiornati l'apocalisse d'acqua e fango che la sera del 15 settembre 22 devastò le vallate del mise nevola provocando 13 morti distruggendo 13 famiglie poteva essere evitata anche con una migliore manutenzione dei due corsi d'acqua anche togliendo gli alberi dagli alvei quante volte ci avete scritto gente che vive a bordo fiume guardate venite a pulire se no succede di nuovo ecco adesso l'inchiesta vorrà chiarire appositamente anche queste delicate situazioni aereo italia è ufficiale si parla anche di l'aeroporto sanzio esce di scena inviata la rinuncia enac non perderete comunque il servizio conferma bignami ha preferito aereo italia pagare la penale piuttosto che continuare a lavorare ad ancona falconara san valentino questa un po vi ha preoccupato una sostanza tossica nei cosmetici la finanza sequestra 200 articoli per san valentino ingrediente tossico lilial nei cosmetici 200 articoli ritirati dal commercio altri 250 prodotti per la cura della persona sprovvisti delle informazioni minime sono stati sequestrati la guardia di finanza è intervenuta in maniera più decisa anche perché in questi giorni le profumerie verranno prese d'assalto da chi dagli innamorati che con poca esperienza e poca pratica proveranno a trovare il profumino le cose un po il prodotto la cremina per la propria dolce signora o signorina per evitare di essere beffati o fregati o di comprare roba pericolosa appunto la guardia di finanza ha fatto questo importantissimo blitz vado a proposito di blitz veloce veloce da voi buongiorno da como livio macis buongiorno l'amica di como ci scrive no no non la vende più io mi ero chiesto così al volo se poi george non che fosse interessato però ci conferma maria crocerizzo che ci segue da como che george non vende più la villa ero già lì per rompere il porcellino guarda ciao morizio invece io non approvo quando cantanti e attori che sono su un palco per esprimersi come artisti si sentano in diritto di utilizzarlo per altri scopi per comunicare al mondo le proprie idee non è corretto e arrogante manipolatori espressione di un ego smisurato di una cultura che tratta la gente che paga perché ama l'artista da beota da educare riflessione tosta è questa secondo questa nostra amica quando alcuni artisti penso per esempio a dar gendamico penso per esempio a gali sul palco dell'ariston hanno mandato messaggi che avessero anche una connotazione politica ecco lei dice no non lo dovevano fare un altro conto per esempio è quando ramazzotti ha detto pace basta bambini che vengono uccisi basta il sangue dei bambini pace basta quello messaggio universale ci può stare quando invece il messaggio un po più mirato allora secondo la nostra amica non si dovrebbe fare che cosa ne pensate siamo a vostra disposizione buongiorno morizio guarda un po la data di questa foto scattata ad ancora ammazza che che pezzo de de olaf di di uomo di ghiaccio di pupazzo di neve la data ah beh certo si tratta del 13 febbraio 2012 il giorno del grande nevone di ancona in quel febbraio del 2012 e tv realizzò 14 giorni di diretta da mattina a sera no stop cercando di prendere per mano una comunità che era completamente bloccata dal nevone e la riprova è data dal fatto che questo pupazzo di neve è alto a giudicare a spanne se quel ragazzino sta sul metro 10 metri 20 ben più di due metri una pupazzo di neve alto ben più di due metri in che zona del capoluogo regionale chiedo troppo anche a me stesso se vuoi aggiungerci qualche dettaglio siamo siamo contenti andiamo ora ai giornali sfogliamo insieme le edizioni del corriere poi andremo a quelle del carlino parto per questa seconda tranche con il corriere pesarese e con la guinza finalmente al lavoro dopo una chiusura trentennale pensate è stato riaperto il cantiere della galleria che da mercatello sbucherà in umbria quindi marche umbria saranno molto più vicine una giornata storica per i collegamenti dell'italia centrale l'obiettivo resta la seconda canna villa marina pannelli e nuova asta si coprono finalmente le brutture dell'ex colonia oramai caduta in degrado sempre da pesaro in piazza del popolo si installa la maxi biosfera della vita quando abbiamo intervistato il sindaco di pesaro ricci per capire con lui le anticipazioni della capitale italiana della cultura ci aveva anticipato di questa biosfera della vita dentro la quale si possono avere esperienze sensoriali e multisensoriali in piazza del popolo sbarca la biosfera provatela e poi fatemi sapere com'è consiglio comunale sì all'unanimità per la clinica privata che ha ricevuto anche coro di critiche urbino revocate le deleghe a scalbi e michelli e la scure del sindaco non è mistero che dietro ci possa essere anche qualche dinamica urbino legata alle prossime elezioni a colpi di di giugno a colpi di pietra ruba nei chioschi del mare giovane ladro sorpreso l'altra sera affosso segliore prima di essere arrestato ha aggredito gli agenti allarme a pesaro per una serie di irruzioni ladresche nei chioschi di concessioni balneari tra pesaro e fano a colpi di pietrate questo soggetto avrebbe abbattuto le strutture per poi razziare quello che c'era dentro pronto il giornale per ancona e provincia ma come sempre ripasso da voi patrizia buongiorno roberto buongiorno olivio maria buongiorno buongiorno buon dolce martedì grasso vediamo un po qui c'è un pupurri un pupurri di ricette mi pare di vedere sì gli arancini sopra che cosa è la pizza mi fa venire fama a quest'ora buongiorno vorrei fare gli auguri alla mia cagnolina camilla di quattro anni però complimenti a camilla una navigatrice come si vede da questa bella foto tranquilla sul mar si chiama questo bel cagnolone come come mia moglie camilla quindi il nome più bello che ci sia chi si chiama camilla è sempre sempre una persona squisita o un animale squisito in questo caso buongiorno morizio carnevale ogni scherzo vale quello di l'udinese è stato super saluti da macerata forza inter amala e sì l'udinese ha fatto un favore più che all'inter direi al milan che adesso è distante solo un punto in classifica anche un po sfortunata la juventus un gollonzo preso e poi la povertà tecnica della squadra non ha permesso ai ragazzi di allegri di recuperare la partita massacrò la ex ergastolo siamo come avevo promesso e anticipato al corriere per ancone provincia il delitto di bologna padovani condannato all'ergastolo il senigallese in aula dice se credete che io sia normale lo merito parole strane quel giorno non ero in me ha ribadito alessandra fu uccisa martellate lo denunciò quattro volte la sorella in lacrime dice è stata fatta giustizia per tutte le donne la sorella che tra l'altro in quei drammatici momenti era al telefono con la vittima quando lei disse fermo cosa fai cosa fai con quel martello e poi successe quello che successe sindaco eventi affari spenti un po di polemiche per la festa di carnevale di domenica negozi aperti perché questo accada serve programmazione insomma i commercianti dopo un periodo di braccetto con il comune fanno capire che qualcosa si sia spezzato forse qualcosa è stato dato per scontato per fare squadra per fare risultato bisogna coinvolgere anche le categorie di coloro che lavorano in città forse questo è mancato eventi affari spenti dura critica nei confronti dell'amministrazione comunale per il grande evento di carnevale di domenica licei la prima scelta bene gli istituti tecnici ma flop per il made in italy questo nuovo corso che è stato voluto fortemente dal governo meloni e che invece ha avuto poche iscrizioni si parla chiaramente del passaggio forte importante dalla terza media al primo superiore prima di fare l'esame i ragazzi e le ragazze della terza media di quest'anno hanno avuto anche la bella responsabilità di scegliere il loro futuro a breve termine è una scelta che forse cade un pochettino troppo presto in italia da anni si discute se portarla un pochettino più in là sia come sia per il momento a 13 anni tu devi già darti una indirizzata anche se c'è ancora tanto tempo e tanto margine per sbagliare è ufficiale sempre dal corriere per ancona e provincia aeritalia se ne va inviata all'enac la rinuncia al bando un matrimonio iniziato benissimo e finito malissimo scarsa cura dei fiumi e ponti realizzati male altri 23 indagati per l'alluvione del settembre 22 la procura ipotizza anche l'accusa di inondazione colposa l'alluvione che la sera del 15 settembre devastò le vallate del misa e del nevola provocando 13 vittime poteva essere evitata pensate lo strazio di chi ha perso qualcuno in quella drammatica notte poteva essere evitata con una migliore manutenzione dei due corsi d'acqua e delle loro sponde e noi cercheremo sempre la verità e seguiremo questa inchiesta che prosegue dal corriere per macerate provincia quello per pesare provincia quello per ancone provincia è pronto il giornale per ascoli e san benedetto intanto c'è chi ci scrive che domenica non è riuscito neanche a prendere un caffè in centro ad ancona hanno ragione i commercianti insomma rispetto al carnevale di ancona di domenica qualche polemica emerge c'è anche chi però ci chiede delle previsioni del tempo per domani perché domani è il 14 di febbraio oggi intanto è già carnevale è ancora carnevale quindi c'è festa dovrebbe essere bellissimo per macerata pesaro ancona qualche gocceriella di pioggia su ascoli e fermo nel contesto comunque di una giornata piacevole per san valentino visto che devo andare portare fare una sorpresa in spiaggia è che devi fare dichiarazione mi raccomando pensaci pensaci figlio mio pensaci mercoledì 14 di febbraio bellissimo quindi il tempo sarà clemente se proprio vuoi andare a fare la passeggiata in spiaggia con la la proposta il tempo sarà dalla tua parte ma il destino il destino sarà dalla tua parte no sto scherzando sapete cosa dice gesù quando non dovrei dirle queste cose sapete cosa dice gesù quando vede entrare lo sposo in chiesa così è che non altro è che non sto scherzando chiaramente viva l'amore viva san valentino se devi fare la proposta falla così te toglier dente allora all'oggi all'ex caserma vecchia eravamo ad ascoli e san meredetto consegnati i lavori alle imprese travaglini e gaspari l'opera andrà terminata entro 21 mesi dunque ufficiale all'ex caserma vecchi arrivano all'oggi fiamme e botte nel carcere brutta bruttissima storia quattro agenti finiscono al pronto soccorso si sbloccano i premi per 550 dirigenti dell'azienda sanitaria che a un certo punto erano stati bloccati dal giudice droga dall'olanda il caso a san benedetto cinque anni per colacioppo e poi a civita nova la notizia la trovate su tutti i giornali marchigiani oggi perché è impossibile non parlarne muore un bambino subito dopo il parto era nato con tre chili e otto quindi sembrava davvero potessero esserci tutte le premesse per una vita prosperosa e invece il dramma abbiamo l'intervista anche del primario tra poco ve la riproporrò il rudere dell'hotel miami siamo ancora a san benedetto rinasce in 30 appartamenti ci sono tanti messaggi legati anche alla questione della sentenza di condanna omicidio matteuzzi giustizia è fatta noi su questo abbiamo le interviste un sollievo penso che quello che avevamo chiesto per Alessandro per tutte le donne che sono ancora ogni giorno assassinate ma per Alessandro questa è la giustizia che doveva e quindi sicuramente un po di sollievo il dolore ovviamente non può che rimanere enorme incolmabile ma la giustizia in questo caso è stata fatta e quindi io ringrazio tutti ovvio che noi ci aspettavamo questo perché per avere giustizia si poteva avere solamente l'orgasso per quello che è successo però finché non ho sentito la parola la mia paura era che non fosse così quindi sono sono super contenta ecco c'è anche perché finalmente adesso l'Alessandro può riposare tranquilla e per una volta rubo le parole di Giovanni Padovani dette in quest'aula questa mattina nessuno va vinto siamo tutti sconfitti la vera giustizia sarebbe che Alessandra fosse qui con noi Alessandra non c'è Alessandra in un'urna ceneraria e il responsabile è Giovanni di Giovanni Padovani che era lucido che ha premeditato l'omicidio della sua ex compagna tutte le accuse comprese le aggravanti sono state ritenute presenti dalla corte e ne siamo molto soddisfatti ci contavamo lo speravamo adesso lo abbiamo ottenuto insomma queste sono le immagini dell'emozione che ha portato questa sentenza alla giustizia italiana che spesso alcuni qui anche a buongiorne tv un pochettino stuzzicano un pochettino critica no 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 in questo caso è stata davvero veloce chiara netta senza discussione buongiorno Maurizio nella città di Ancona non esiste un bagno per disabili altra polemica legata al carnevale di domenica a raso in piazza Roma c'è ma ci sono le scale domenica ho fatto polemica e così era mascherata questa persona sanità pubblica allo sbando totale da un anno aspetto di essere operato alla prostata mi tocca andare in giro con il pappagallo e con la padella grazie quindi doppia polemica e per i servizi pubblici di Ancona che non avrebbero attenzione verso i diversamente abili e per la sanità marchigiana aspetta questa operazione da tempo alla prostata domani è il 14 febbraio tutti a Pesaro a sostenere l'Ancona grazie per il messaggio buongiorno e tutti chi ci segue da Pesaro diranno sì sì vi aspettiamo venite a trovarci buongiorno Maurizio ispiri simpatia coi capelli alla Stan Loren addirittura faccio stallio no adesso ho avuto c'ho un po' da fare in questi giorni poi quando passa vi spiego tutto per il momento stringiamo i denti e si va avanti passo dalle edizioni del Corriere alle edizioni del Carlino riparto dal via e ricomincio il giro con l'informazione marchigiana riparto da Pesaro spranghe sassi tegole pali gli attrezzi usati da una 26enne per spaccare vetrine e rubare ha colpito a Fano e Pesaro ma alla fine è stato arrestato dalla polizia nella foto vedete uno dei luoghi devastati dalla sua opera multato 202 volte vi avevamo raccontato la sua storia nessuno ma aiuta e la rabbia di Mauro Bigini al cui figlio sono stati contestati verbali per 6.000 euro sindaco Ricci dove sei questo l'appello insomma purtroppo per un disguido burocratico ha reiterato il figlio di quest'uomo più volte lo stesso tragitto lo stesso comportamento pensando di essere nel giusto il permesso sì ma il passaggio per arrivare al permesso del parcheggio no questo cortocircuito lo ha portato a subire multe per 6.000 euro l'orchestra olimpia grande protagonista il 20 di gennaio con il presidente Mattarella all'inaugurazione dell'anno della capitale italiana della cultura a marzo andrà a suonare alla quirinale sarà una grande emozione nella foto vedete il baciamani di Bonolis al direttore dopo la gaff che poi anche il direttore ha sottolineato la guinza ecco la foto che conferma la soddisfazione delle istituzioni finalmente per il via libera una luce in fondo al tunnel dopo 30 anni finalmente riaperto il cantiere per completare la galleria della guinza che nella zona nord delle Marche renderà più vicine più facilmente attraversabili le zone delle Marche e dell'Umbria e viceversa chiaramente sprofondo invece VL sono mancati i tiratori la squadra è in grande grande difficoltà poi la vis poco fa un amico tifoso dell'Ancona diceva domani San Valentino andiamo tutti a fare il tifo per l'Ancona a Pesaro la vis che aspetta l'Ancona Fano parla patron guida è pronta l'edizione del Cardino per Ascoli ma come sempre prima passo da voi Diego buongiorno Silvana buongiorno Carla buongiorno Patrizia a me sembra che dire mai più bambini uccisi pace da chi che sia penso sia una cosa buona spero tanto ascoltino i grandi si fa per dire grandi ce l'auguriamo tutti anche fuori dal palcoscenico grazie cara Patrizia che così riflette con noi su una polemica che si è scaturita da Sanremo con dei cantanti che sarebbero stati censurati per le loro posizioni ne parla il Carlino nazionale ne parla anche il Corriere della Sera per le loro posizioni nei confronti del conflitto a Gaza che tra l'altro segna un altro purtroppo un altro terribile momento il ritorno a casa sì degli ostaggi liberati a Rafa con un raid notturno delle forze israeliane due ostaggi liberati un centinaio di persone sono morte nell'operazione altra situazione eccola qua Mara Venier contestata il comunicato Rai che era già pronto e i commenti bloccati sui social perché? perché c'è chi dice un cantante ha da cantare e quando ha finito la performance non deve lo diceva anche un messaggio che abbiamo ricevuto da una nostra amica non deve esprimere pensieri personali e opinioni politiche in un momento nel quale per il fatto di essere un artista ha l'attenzione del pubblico insomma che cosa ne pensate? è una posizione molto molto particolare la questione dei trattori al volo sempre per il nazionale nuova intesa più esenzioni IRPEF zero pagamento IRPEF fino a 10.000 euro dimezzata l'IRPEF tra i 10.000 e i 15.000 potrebbe essere questa la chiusura del cerchio i no della Lega poi il lodo Leo Lollobrigida da capire però l'impatto sui conti adesso Ascoli davvero come avevo anticipato treni speciali per carnevale ma Ascoli rimane esclusa con lo sfogo dei giovani così siamo costretti a usare l'auto un nodo infrastrutture che nelle Marche resta sempre un punto scoperto pronto soccorso a misura di bambino è ufficiale già da ieri anche se il Cardino dice già da oggi ma in realtà sul Corriere già da ieri lo annunciavano il fast track pediatrico la direttrice Natalini dice se funziona lo attiveremo anche altrove è un'idea talmente semplice che ci chiediamo ma com'è possibile che non fosse già stata attuata in pratica i bambini hanno la precedenza i bambini anche se hanno codici di lieve entità alla triage devono andare direttamente in reparto e non stare lì ad ammuffire al pronto soccorso mi pare assolutamente doverosa si chiude in bellezza carnevale fitto programma oggi ad Ascoli di Marte di Grasso ma c'è anche Offida tutti gli appuntamenti li trovate da pagina 2 a pagina 5 tra poco faccio il punto la vicenda di Macerata certamente fagocitata da questa notizia tragedia in ospedale a Civitanova neonato muore poco dopo il parto disposta un'indagine interna il piccolo era venuto al mondo da pochi minuti con un cesareo inutili e disperati tentativi di rianimarlo il direttore del dipartimento Pelagalli dice se i genitori danno il consenso procederemo con l'autopsia per chiarire ancora di più quello che si aspetta ABF è fatta di storie Benedetta dopo il sisma ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine è stata promossa a pieni voti Martina è un'atelierista digitale Martina è un'atelierista digitale